Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato a FIFA 14 Ultimate Team in particolare è la recensione di un calciatore, un calciatore che ha subito una versione upgrade quindi è stato portato, già la sua ottima versione e-form è stata portata a un livello più alto, quindi da 82 è passato a 83 sto parlando di Giuseppe Rossi, Giuseppe Rossi che avevamo già recensito all'inizio Ultimate Team e mi era piaciuto davvero davvero molto quindi sono stato davvero curioso di provare questa versione che si cambia da essere uno dei migliori attaccanti di Serie A prima di tutto cominciamo dalla velocità nella nostra analisi, velocità che è molto buona, ha 86 di accelerazione e 84 di velocità massima quindi davvero niente niente male, l'agilità è molto buona quindi riesce tranquillamente a saltare gli avversari grazie alla sua agilità straordinaria l'unica pecca è la forza fisica che è davvero davvero bassa quindi non potete vincere di fisico i duelli contro i difensori avversari molto forti fisicamente possono essere i vari Benatia, Kabul, quindi gente molto utilizzata che ha grandissima forza fisica con Giuseppe Rossi non potete batterli, potete batterli però con l'accelerazione che è veramente veramente molto buona passando al tiro è la qualità che probabilmente ha subito un più grande miglioramento rispetto alla già pur ottima versione IFA adesso ha 89 di tiro abbiamo visto Tevez che aveva 91, sono molto simili l'unica differenza che ho notato è riguardo alla finalizzazione quella di Tevez è leggermente meglio per il resto ha anche lui 3 stelle piede debole quindi questo è un suo piccolo punto debole perché comunque vi obbligherà ad andare sul mancino invece che sfruttare il suo piede destro questo però può anche rivelarsi utile perché? Perché gli avversari non sanno che è un giocatore mancino a differenza di Van Persi che è un giocatore conosciuto in tutto il mondo gli avversari non sanno che Giuseppe Rossi è mancino quindi vi capiterà spesso di andare tranquillamente sul sinistro gli avversari non se lo aspetteranno quindi potrete segnare dei bellissimi gol la potenza di tiro è straordinaria riesce a segnare sia da vicino alla porta sia da molto lontano ho provato a fare dei gol da fuoriare davvero davvero splendidi è buono anche il tiro di più cittadini guardate qui, da fermo riesce a piazzarla sul palla dove c'è che uno dei portieri migliori del gioco non può arrivarci il dribbling è molto buono ha solo 3 stelle skill quindi un pelino inferiore a Tevez ma comunque agilità, controllo palla è un dribbling straordinario quindi nello stretto se la cava benissimo può saltare gli avversari è uno dei migliori di questo gioco è praticamente uguale a Tevez solo che Tevez costava 310.000 crediti questo non costa quella cifra i passaggi sono buoni io l'ho provato come trequartista ovviamente non ha il passaggio di Pirlo però riesce tranquillamente a mettere in porta i suoi compagni il suo punto debole è il colpo di testa come abbiamo visto per Tevez sono due giocatori molto molto bassi quindi vi consiglio di non utilizzare i cross con questi giocatori cercate di giocare palla a terra e fate viaggiare la palla e otterrete dei risultati davvero davvero ottimi poi segna ovviamente di testa se è molto libero come in questo caso che chemistry style vi consiglio di utilizzare con questo giocatore? il primo è catalizzatore che va a aumentare leggermente la velocità e il passaggio vi consiglio di non andare a toccare il tiro e il dribbling perché sono comunque già molto buoni se proprio volete aumentare leggermente il dribbling vi consiglio l'artista che va a aumentare il passaggio di dribbling il passaggio è importante aumentarlo se lo vogliamo schierare non come punta dove utilizzare quindi Giuseppe Rossi? prima di tutto work rates medio-basso quindi simile a quello di Balotelli quindi un giocatore che fa molto la fase offensiva e molto poco quella difensiva è un ottimo falso 9 in un 4-3-3-5 quindi potete utilizzarlo come falso 9 con Cerce e Sharawi sugli esterni al posto di Sharawi potreste mettere anche Tarapto per avere due esterni davvero davvero offensivi Rossi è in grado sia di tirare dalla distanza sia di passare la palla a Pogba e Vidal che sanno inserirsi e andare a tirare sia comunque dialogare con i due esterni oppure in un 4-4-1-1 questo è un modulo molto sottovalutato Rossi in questo caso fa la T a Quadrado e Sharawi sugli esterni Balotelli unica punta e un centrocampo che si completa la perfezione tra Guarin che fa la fase offensiva e De Rossi che fa quella difensiva è ottimo anche come punta magari in un 3-5-2 comunque in un ruolo di punta ma solo con un altro attaccante vicino quindi non usatelo magari in un 4-3-3 in questo 4-4-1-1 come punta unica non va assolutamente bene perché non ha fisico e non ha colpo di testa conclusione ottimo tiro dribbling pazzesco buona velocità il prezzo perché costa solo 60.000 credit quindi una cifra abbastanza alla portata di tutti contro ha la forza fisica le 3 stelle più debole e le 3 stelle skill non ho voluto mettere il colpo di testa perché comunque è un giocatore basso non ho sfruttato il colpo di testa quindi non è un suo punto debole conclusione io vi consiglio di provarlo Tevez è leggermente superiore ma Tevez costa 320.000 credit quindi questo costa molto di meno e può essere una valida alternativa per le serie A se volete utilizzarlo trequartista come ho utilizzato io cercate di mettere come punto un attaccante che torna molto in difesa come Tevez in questo caso andranno a scambiarsi molto spesso e non avrete mai un buco davanti quindi con oggi abbiamo concluso se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale vi ricordo di passare nella pagina Facebook che trovate in descrizione e troverete in descrizione anche il mio gruppo Facebook che ho aperto proprio ieri noi ci vedremo presto ciao a tutti